Giornata di Painting School, la scuola con lui, questo è il risultato, questa era la reference, siamo soddisfatti? Come vuoi tu, ok. Abbiamo fatto un secondo fiore, molto meglio, ancora questo, però questo è venuto meglio, devo dire. Pugnetto, amore, vi spaccato. Chiara! Ufficio, oggi Magia in studio, vi faccio vedere una cosa che mi gasa sempre, ok. Pronti? Pronti? Et voilà, la magia. Vito! Vito, Vito! Guarda, guarda com'è brava la Vito che non ha paura. Guarda, guarda, guarda. Guarda, 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 guard